Fermare il nucleare è l'appello che il Comitato per dire sì contro il nucleare rivolge ai tarantini in vista del referendum del 12 e 13 giugno. La catastrofe giapponese non ci ha insegnato nulla. Il governo italiano, si legge nei volantini distribuiti in città, minimizza in modo irresponsabile. Una campagna di sensibilizzazione si sta svolgendo nel fine settimana. Stamattina ai tamburi, stasera in via di Palma, domani da capo in Villa Peripato e poi per portare 25 milioni di italiani a votare il 12 e 13 giugno. Nei volantini che invogliano a recarsi alle urne per dire sì contro il nucleare vengono enunciati i rischi. Esplosioni, tumori, terrorismo. Una centrale nucleare può causare conseguenze su vasta scala e per tempi lunghi. Messi in dubbio anche i benefici. Per 20 anni, si legge, le bollette aumenteranno per coprire le spese legate alla costruzione degli impianti. Costoso e pericoloso. Gli italiani nel referendum dell'87 dissero di no al nucleare. Il 12 e 13 giugno il Comitato invita tutti ad andare a votare sì al referendum abrogativo.